Ha giocato, scherzato, anche un po' così con i tifosi nel prepartito, abbiamo visto il riso quasi, se vogliamo dire, la presa in giro che gli veniva fatta ed era concentrato al 100%, perché lui non credo di ricordare, almeno io non me lo ricordo, un pallone che era sbagliato, anche nella gestione della palla.